Seconda edizione del progetto Coscienza Comune, un percorso di contrasto agli stereotipi e alla violenza di genere che coinvolge le ultime classi delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado della città. L'iniziativa è stata presentata questa mattina in sala giunta dall'assessore all'istruzione e alle famiglie Maura Striano insieme ad un kit didattico ad accesso gratuito per gli insegnanti. Quest'anno ci avvaliamo di un parterre di esperti molto più allargato. Oggi partiamo anche da un cortometraggio e da un kit didattico che va a intercettare gli stereotipi di genere nelle scuole primarie e secondarie di primo grado, quindi anche con i bambini più piccoli. Cercheremo appunto di allargare il nostro discorso per scardinare una serie di stereotipi e di pregiudizi che poi sono la base delle relazioni violente e tossiche ma anche proprio di quelle che sono le disuguaglianze di ordine sociale e culturale. Coscienza Comune è un progetto promosso dalla consulta delle lette con il supporto degli assessorati all'istruzione e famiglie e allo sport e pari opportunità, nato con l'obiettivo di accompagnare le alunne e gli alunni nella presa di coscienza dei ruoli e delle relazioni di genere segnati da stereotipi e discriminazioni. Alla scorsa edizione hanno preso parte 682 studenti di 13 istituti scolastici. Quest'anno si replica, da gennaio a maggio 2025 sono previsti incontri con esperti e laboratori nelle scuole.